salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora il titolo penso che solo i più disattenti potrebbero fraintendere ovviamente parlo di ronaldo pompeo da silva ormai ex capitano e ex giocatore del padova faccio questo video proprio per questo motivo mi sveglio vado a vedere le notizie e leggo ronaldo pompeo da silva è un nuovo giocatore dell'allane rossi vicenza pensato porca puttana troia scusate il francese ho pensato questo perché ho detto vabbè va a catanzaro va al crotone va all'avellino ok non ce lo troviamo contro nel girone girone c girone del sud buona fortuna e grazie per tutto no no è andato al vicenza per chi non sapesse grande rivalità tra vicenza e padova vicenza neo retrocessa l'anno scorso ha perso i play out contro il cosenza di un'altra nostra vecchia conoscenza per paolo bisoli e va alla l'allane rossi vicenza non mi ricordo non so sinceramente penso una buona uscita con la rescissione del contratto non penso che ci abbiano dato niente perché non era più nei piani questo lo sapevamo ma io faccio questo video appunto per dire la mia sul fatto che ce lo ritroveremo contro in mezzo alle balle scusate ancora il francese è che mi girano se lo ritroviamo contro nel girone con una delle pretendenti per vincere quel girone tra l'altro mi ha ricordato la cessione di cappelletti nel 2019 e fatto strano sono andato a vedere che così potevo riportare questa notizia nel 2010 2011 sia cappelletti sia ronaldo erano al padova cappelletti in prestito e si sono ritrovati quindi nel 2011 e per qualche mese nel 2019 perché poi cappelletti è andato via e ora si ritrovano insieme perché cappelletti l'abbiamo mandato alla l'allane rossi vicenza ed è ancora lì si ritrovano quindi i due insieme stavolta al vicenza io mi dicevano tanto le palle veramente tanto chiedo ancora scusa non so cosa dire io spero gli auguravo il meglio ma spero che con noi faccia male quando ci incontra che 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 faccia la peggiore partita della sua stagione sia l'andata che al ritorno ve lo giuro ve lo giuro perché si segna si segna preparatevi il post partita se segna contro di noi rompo qualcosa vabbè basta posso anche chiudere qui il video tanto quello che dovevo dire l'ho detto il rassunto del video mi girano le palle ciao a tutti beatosi a tutti